La lunga giornata di Matteo Cagnoni, il dermatologo ravennato accusato di aver ucciso la moglie Giula Ballestri, non si è conclusa quest'oggi. La mattinata e gran parte del pomeriggio sono volate solo per rispondere alle domande della PM Cristina Daniello e il giudice Schiaretti, prima di passare la parola agli avvocati delle parti civili, ha annunciato che l'udienza riprenderà a martedì prossimo. Lui, Matteo, principale indiziato dell'omicidio della moglie, se ad inizio mattinata era apparso non proprio tranquillo, con il passare delle ore è sembrato trovarsi a suo agio di fronte alla sala d'assise piena di pubblico, lì per vedere da vicino proprio lui e ascoltare dalla sua viva voce l'altra versione dei fatti. Sono molti gli aspetti, le incongruenze, le contraddizioni che la PM ha cercato di mettere in evidenza rispetto a quanto dichiarato da Cagnoni al GIP dopo l'arresto a Firenze o in seguito attraverso le lettere inviate ai giornali. Lui ha risposto, ha raccontato la sua versione dei fatti. Quando la notte della domenica del 18 settembre alle ore 23.30 parlò il telefono con il commissario che le chiedeva di venire a Ravenna, incalza la PM perché non chiese mai il motivo per il quale la stavano cercando, non chiese mai perché, cosa è successo. È una domanda che chiunque farebbe, lei invece non l'ha fatta. Sua moglie era scomparta da giorni e lei, durante la telefonata, non chiese mai se era stata trovata, se le era accaduto qualcosa. Ha sottolineato più volte la Daniello e lui, Matteo Cagnoni, ha risposto, davo per scontato che mi volessero sentire solo per la denuncia di scomparsa e ero molto stanco. Cagnoni risponde sempre, racconta la sua versione, spiega, legge gli appunti e all'avvocato Scudellari replica Giulia è stata uccisa da un mostro, ma quel mostro non sono io. E il commento che si bisviglia tra il pubblico presente e quel pubblico che da mesi sta seguendo tutti i venerdì il processo dall'inizio è quasi un anime. È lui sicuramente il colpevole, ma non si lascia mica incastrare dalle domande. Sembra tranquillo e risponde sempre bene. Grazie Grazie